Sono andato a vedere nei fumetti come viene scritto il suono di una frenata, Screek, un nome, un modo così, più o meno come ve l'ho scritto, e la frenata c'è stata. Eravamo andati avanti parlando di visite medite di Giroux, ma ci sono delle novità. Il deal si è, non drammatizziamo, non è un video per drammatizzare, si è lievemente interrotto. Ci sono probabilmente ancora dei dettagli da chiarire, quindi il famoso lunedì delle visite mediche, anticipato anche dai colleghi perché li nomino nelle notizie, li nomino anche quando le notizie non sono ancora fondatissime, magari lo erano ieri ma non era prevista questa frenata. Che cosa vuol dire? Che Giroux non arriverà? Assolutamente no. Sono le frenate naturali di una trattativa tra due grandi club con le loro esigenze. Si parlava già di un Giroux pronto a venire lunedì, ci sarà probabilmente da aspettare ancora magari delle ore, non credo dei giorni, magari arriverà lunedì sera e il deal si dovrebbe chiudere dunque lunedì per le eventuali visite mediche, martedì. Il giocatore è a disposizione, il giocatore sa di dover espletare questa formalità, magari noiosa ma anche stimolante perché si sa che si cambia squadra, una nuova avventura, dei nuovi colori, delle nuove sensazioni. Quindi ecco la novità della sera, frenata, non frenatona, frenata, rallentamento, anche se io ho messo il suono dei freni per la trattativa che riguarda appunto Olivier Giroux. Una curiosità, avevo messo nel mio post Olivier Giroux, Landrou, l'ho messa così come suono. Poi però con cautela l'ho cambiato, ho tolto il post e ne metterò e ho tolto l'ultima parola perché sono andato a vedere Landrou, pensavo che fosse un ladro famoso in Francia. No, è un serial killer che ha ammazzato a fine degli anni del XIX secolo una decina di donne. Ho detto no, togliamo subito, e vi dico solo questa curiosità, Landrou. No, non è bello mettere Landrou, ha costato a nessuno per il suo passato, ripeto, di serial killer a Parigi alla fine del XIX secolo. Troveremo un soprannome certamente più adatto a un bomber come Giroux, un giocatore importante. E questo si parla molto Milan indebolito o no. Ho sentito un collega, ho letto anzi un commento in un social che parlava il primo upgrade, cioè il primo miglioramento della Rosa, perché la Rosa aveva già Tomori e confermato Tomori, aveva già Tonali e confermato Tonali, aveva purtroppo Mandzukic, Lorenzo Colombo che poi è andato via, aveva Mandzukic e Ibrahimovic, questo è un upgrade, perché visto purtroppo le prestazioni, il rendimento di Mandzukic e aver inserito Giroux, giocatore di 35 anni, di cui anche Papen ne ha parlato benissimo, è sicuramente un miglioramento della Rosa. Quindi anche non solo a livello numerico, ma a livello di qualità, la Rosa con Giroux crescerà. Un Giroux che, ripetiamo, non arriverà per le visite mediche, magari lunedì, ma la trattativa ha avuto un rallentamento, non una frenatona brusca, anche se ho messo Screek, però la trattativa per i giocatori deve essere ancora limata per trovare la sistemazione degli ultimi dettagli. E questa è la notizia del venerdì sera. Un venerdì sera che ci ha regalato la finale di Wimbledon, che ci ha regalato a noi tifosi di Berrettini, dei tenisti italiani, ma soprattutto di Matteo Berrettini, una finale storica a Wimbledon. E questi facciamo parte della storia, perché siamo qui, non capitava da una finale di Adriano Panatta, tantissimi anni fa, a proposito del suo compleanno, sono sempre stato un ammiratore, tanti auguri. Matteo Berrettini, vincendo in 4-7, ha battuto il polacco e dunque si è qualificato per la finale di Wimbledon, una domenica che si annuncia eccitante per il tifoso italiano. A poche miglia, Wimbledon e Wimbledon sono sempre dalla parte di là di Londra, due italiani, no, non due italiani, diciamo un italiano e una squadra italiana giocheranno per la storia, visto che l'Italia è dal 68 che non vince un europeo e l'ultimo a vincere uno slam è stato Panatta, quindi tantissimi anni fa. Per quello che riguarda, tornando subito ancora al Milan, Torno a parlare ancora di Dalot, perché nonostante le indiscrazioni lo allontanino dal Milan, il Milan non ha ancora rinunciato alla possibilità di lottare per prendere questo giocatore importante, riuscire a strappare un diritto di riscatto a una cifra importante, ma accessibile al Milan sarebbe molto significativo, perché Dalot è un giocatore che non è quasi più di un'alternativa a Calabria, è un altro cotitolare, come potrebbe essere un cotitolare come del resto Giroud con Ibrahimovic. Quindi giocatore che mi piacerebbe il Milan riuscisse a, così, ad afferrare, dopo trattative certamente laboriose con il Manchester. Per quello che riguarda il numero 10, i nomi non se ne fanno ancora, per quello che riguarda il numero 10 dunque bisogna ancora aspettare. Isco è un nome che ricorre tanto, però riguardo a Isco mi hanno sempre detto che per il momento non è nel nostro focus, la parola per il momento mi lascia pensare che possa cambiare qualcosa in futuro, però per il momento non è nei piani del Milan. Sabitzer piace, io personalmente faccio il tifo per Sabitzer, faccio fortemente il tifo per Sabitzer, perché io ricordo le partite, ho visto le partite contro il Tottenham dell'Ipsia, è un giocatore presente, è un giocatore continuo, il vero faro, il vero punto di riferimento, il telecronista lo nomina mille volte. Non è che sia fondamentale nominare il telecronista, che un giocatore venga nominato dal telecronista, ma quando è sempre nel vivo dell'azione, indubbiamente, indubbiamente vuol dire che è il catalizzatore di ogni azione. E il numero 10 del Milan, come lo vuole Pioli, deve essere il catalizzatore. Quello che si muove a petto in fuori, a prendere i palloni, lo era Zedorf, lo era Rui Costa, lo era questa categoria, questa tipologia di giocatori. E io personalmente, io, faccio il tifo rispetto a tutti gli altri, visto che Tadic non verrà sicuramente, faccio proprio il tifo per Sabitzer. Costo, secondo me, accessibile, d'altra parte per il 7 e per il 10, difficile arrivare ai prestiti, bisogna pagarli. Ma la proprietà è sempre stata pronta quando si tratta di fare la mossa per agguantare un giocatore. Prima di salutarvi, le dichiarazioni di Roberto Donadoni. L'abbiamo avuto ospite per la sezione premium del mio canale YouTube, Vecchi Cuori Rossoneri. Ed ecco le parole di Roberto Donadoni sull'addio di Donna Roma. Mi è parso che Donna Roma non sia stato molto riconoscente di un club, di una società, che gli ha dato la possibilità di diventare oggi quello che è. E' un dubbio che lui abbia grandi potenzialità, grandi mezzi, che sia uno dei portieri più forti al mondo. Lo sta dimostrando anche in questo campionato europeo. Però, insomma, credo che a fronte di proposte importanti, comunque, fatte dal club, che non accettate, ha lasciato tutti un po', come dire, così, un po' amareggiati. È chiaro che ognuno è libero di fare la scelta che più ritiene opportuna, però, insomma, credo che, visto e considerato quello che è stato il suo cammino all'interno di questa società, forse ci si aspettava un comportamento differente, magari rinunciando anche a un po' di denaro. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.